Dopo la manifestazione di protesta di giovedì scorso, una delegazione degli agricoltori di Brindisi è stata ricevuta dal prefetto Michela Laiacona per illustrare i problemi che attanagliano il comparto agricolo, in particolare contro le politiche agricole comunitarie, vale a dire il cosiddetto Green Deal, l'utilizzo di cibi sintetici e lo stop al gasolo agricolo dal 2026. Abbiamo chiesto come Confederazione Italiana Libre Agricoltori di poter incontrare il prefetto per poter significare che la Confederazione aveva già in animo la realizzazione di una manifestazione di carattere nazionale che terremo domani a Matera e Altamura e sarà una manifestazione nazionale proprio per poter comunicare a tutta la società che il mondo dell'agricoltura è un mondo primario. Attraverso l'agricoltura si produce cibo, si produce ambiente, si produce sanità, si produce salute, si produce tutto. Senza il mondo agricolo, senza gli agricoltori, questo non è possibile. Gli interventi fatti dalla comunità europea in questi anni hanno messo in grosse difficoltà il mondo produttivo e certamente nel momento in cui i gruppi produttori con delle manifestazioni spontanee che stanno venendo fuori rifiutano la partecipazione delle organizzazioni professionali, noi gli diamo perfettamente ragione. Domani finalmente il Ministro ci riceve in contemporanea mentre svolgiamo la manifestazione alla quale consegneremo il documento di base più tutte le iniziative che devono essere svolte per modificare questa PAC. Sappiamo bene che la PAC in questo momento, fino al 2027, non può essere modificata, ma lo Stato italiano, il governo italiano, può prendere delle decisioni di modificare o di derogare alcune cose.